Come si sviluppa la creatività? Come si allena? Quali sono gli elementi che generano dentro di noi l'abilità di creare e di trovare qualcosa di nuovo, di innovare anche? Queste sono delle domande molto profonde, ovviamente, che hanno delle risposte piuttosto complesse, molto articolate, perché toccano tanti aspetti della nostra personalità. Oggi affronto sul Diario d'Artista, proprio questo tema. Insunta, vi faccio un riassunto, poi se volete andate a leggere l'articolo, basta che commentiate con Diario e lo riceverete. Insomma, io dico che ci sono, diciamo, tre aspetti. Prima di tutto c'è da allenare la flessibilità, cioè il pensiero laterale, la capacità di associare un'idea in un campo, in un altro campo, piuttosto che attribuire all'interno di un pensiero un modo di pensare che viene da un'altra parte. Questo è il pensiero laterale, no? La possibilità di unire pezzi che sembrano disgiunti. Quando si riesce a fare questo, poi bisogna studiare la tecnica. La tecnica è intesa come quali sono le cose che mi servono per migliorare il lavoro che sto facendo. Per esempio, nell'articolo parlo dell'associazione di parole, quindi la capacità di prendere una parola, poi dirne un'altra e associare liberamente una parola dopo l'altra. In questo caso la tecnica sarebbe la conoscenza del vocabolario, cioè quante parole conosciamo, più parole conosciamo, più siamo abili a muoverci all'interno del pensiero laterale. E quando abbiamo queste due cose, la terza è andare nell'arena, andare nella nostra crisi e andare a cercare un modo per fare che questo pensiero laterale, questa tecnica che abbiamo imparato dia il meglio di sé. Ecco, come al solito, per leggere l'articolo, commentate diario, io vi auguro una bellissima giornata.